buongiorno fanciulle bentornate sul mio canale oggi voglio farvi vedere i miei ultimi acquistini qualcosa mi è arrivato da aliexpress un ordine che avevo fatto circa un mese e mezzo fa e un piccolissimo ordine misto adesso capite perché da perle senco ho deciso di girare un po sorpresa questo video stamattina perché mi sono resa conto di essere un pochino assente mi scuso ma da quando è stato poco bene il gatto adesso sta abbastanza bene non sta bene ma sta abbastanza bene mi è andato il cervello in pappa cioè sono entrata nel circolo della totale incapacità di organizzarmi quindi ho intorno a me o un caos che se ve lo faccio vedere vi cancellate dal dal canale cancellate l'iscrizione quindi evitiamo ho fatto delle nuove creazioni che vorrei farvi vedere nei prossimi video sempre che io riesca a finirle ho ripreso un'attività di cui vi parlerò con mia cugina microsjewels di cui vi parlerò quando saremo pronte in più ho in mente degli altri degli altri tutorial però ripeto non riesco più a organizzare il tempo come facevo prima non lo so come facevo a questo punto ma veniamo subito agli acquisti allora prima di tutto vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da per le 5 ho qui il la fattura ho speso comprese le spese di spedizione 30 euro ho fatto veramente pochino allora ho preso due bobine di due bobine di filo di alluminio da uno e mezzo se vi ricordate nei video precedenti vi ho fatto vedere le bobine da uno e da due mi sono resa conto che per fare cose come questa non so se lo vedete bene comunque per fare cose come questa ve li mostrerò meglio nei prossimi video ho bisogno di filo un pochino più grosso perché il 2 è troppo grosso l'uno è troppo sottile quindi ho preso questi due purtroppo non ho trovato il dorato chiaro quello che piace di più a me però diciamo che per quello che devo fare va bene anche questo quindi ho preso due bobine e l'ho pagato per 12 metri 2 euro 80 poi vi faccio vedere cosa ho preso per la gioia di mio marito me la faccio vedere che era ancora incartocciata ho preso questa che non c'entra niente con i bijou lo so per fare i muffin io per fare i muffin in questo momento sto usando dei pirottini a forma di cuore in silicone con cui mi trovo benissimo ma sono tutti i pirottini divisi e mi tocca usare la piastra del forno e a volte vado un po male a metterli giù quindi cercavo questa per poterci mettere dentro i pirottini di carta eccola qui l'ho trovata rosa c'era solo di questo colore non è che l'ho scelta io e l'ho pagata stampo in silicone by my patisserie l'ho pagata 7 euro 92 vi sto dicendo i prezzi va compresa naturalmente adesso vediamo dove metterla poi ho provato a prendere una cosa l'ho presa solo per cioè vi spiego perché l'ho presa ho preso questo che l'ho già aperto voi direte che cos'è è un kit di cucito un kit di cucito che ho pagato uno sproposito l'ho pagato 9 euro ma mi interessavano delle dimensioni delle misure perché vi faccio vedere come fa tanto il pack che cos'è sta roba il packaging è così arriva con questa scatola carino che io butterò perché non mi serve a nulla arriva su una carta tipo da camice quelle che servono per coprire le camice e vi faccio vedere innanzitutto scusatemi perché sto guardando anch'io ora vabbè questo allora questo qui che adesso lo vedrete probabilmente a rovescio è credo sia da stirare sulla pochette praticamente questo scusatemi è il libretto di istruzioni tutto in francese mi sarà molto utile e vi faccio vedere che cosa praticamente ho preso allora questa cosa è fatta così vedete è un pezzo di tessuto presumo sia un cotone già con il disegno cioè ve lo faccio vedere per farvi capire proprio vedete con il disegno già fatto basta solo ritagliarlo seguire le istruzioni per cucirlo a me ripeto interessavano le misure mi interessavano le dimensioni quindi ho detto lo prendo mi faccio questa bustina e mi faccio sta bustina e mi tengo poi le dimensioni perché mi interessavano per avere più o meno le dimensioni di quella di quella pochettina questa è una pochettina marinara c'entra poco con il natale con l'inverno e con tutto il resto non importa adesso non riesco più a sistemarlo io vorrei farvi vedere cosa ne usciva ma eccola qua guardate praticamente il disegno cioè la pochette è questa vedete è una pochettina credo appunto sia in cotone un tissu imprimé pur réalisé sua mem il mio francese ragazze una pochette double face e un carnet cioè il librettino di istruzioni per seguire passo passo peccato che sia tutto in francese che il francese lo sappia pochino non vi ho fatto vedere no non vi ho fatto vedere perché non ho ancora finito che l'omaggio l'omaggino che mi ha mandato perlsenco è questo tagliapasta piccolino grazioso che potrei usare con le paste polimeriche se ritornassi a usare le paste polimeriche perché voi non lo sapete ma io di là ho uno scatolone di paste polimeriche da utilizzare qua intanto mi sto riempiendo di pelucchi perché vestirmi di nero anch'io comunque questo è il tagliapasta e questo è quello che ho acquistato da perlsenco come vedete veramente un pochino la cosa mi ha costato di più è stato il kit di cucito tanto per farvi capire ora vi mostro senza spiegarvi che cosa farò che cosa mi è arrivato da aliexpress allora vi faccio vedere le ultime arrivate che non le ho ancora aperte sono delle pochette questa è una pochette in ecco pelle quella nera forse riesco a farvela vedere all'interno vedete una pochette in ecco pelle con la chiusura clic clac e la chiusura ho sempre problemi ricordando questa parola ma io sono dislessico lo sapete come si chiama no niente non mi viene ragazzi scusatemi vedete all'interno è foderata e c'ha la catena perché appunto vi faccio vedere all'interno vedete c'ha i gancetti per attaccare i manici la catena è in alluminio e sono abbastanza grandine vi farò vedere cosa ne esce l'ho presa nera e l'ho presa un color panna praticamente queste sono le più grandi che sono ve lo dico subito 28 calamita volevo dire chiusura calamita vedete il mio cervello lavora ma con molta calma poi è mattina 28 per 18 quindi sono proprio grandine vedete è una pochette vera e propria non so sono arrivate queste tre eccole qui queste sono più piccoline sempre pochette sempre stessa chiusura all'interno sono tutte morbidine hanno come vedete ragazzi le sto aprendo ora nel senso che l'ho tolte dall'involucro hanno la tracollina hanno la tracollina con vedete con il moschettone e all'interno sono tutte pelosine hanno una no pensavo avesse una cerniera invece no però vedete hanno due tasche è proprio una cosa secondo me piccolina graziosa carina se dovete uscire un giorno e avete poche cose da portarvi è proprio graziosa piccola e l'ho presa questo color pesca un fucsia con l'interno tiffany color tiffany sono tutte uguali e naturalmente l'immancabile nero con il rosso all'interno molto natalizio poi di questi vi posso far vedere solo uno vi faccio vedere il retro di questi due allora vi faccio vedere ne faccio vedere uno solo che è l'unico che non ho ancora cominciato a lavorare che è questo è un portafoglio è un portafoglino all'interno ha delle tasche e taschine porte a documenti hanno la cernierina come vedete dentro hanno sempre il manichetto da polso si aggancerà sicuramente da qualche parte anche se io personalmente si scusate quello qua si aggancia qua la particolarità di questo è che da una parte eccolo qua nell'ultima tasca in fondo è un porta cellulare voi direte in che senso vedete che c'è il foro porta cellulare ed eventualmente per poterlo già attaccare al caricabatterie cioè se siete da qualche parte la foto mi faceva mi descriveva quest'uso praticamente nell'ultima taschina allora chiudiamo quella con la cerniera sono carinissime ovviamente non potevano prenderlo azzurro vedete eccolo qua infilate il cellulare non posso farvelo vedere perché sto filmando e lasciando la parte dove ci sono gli spinotti da questa parte potrete tenerla chiusa e caricarlo non ho ben capito utilità di questa cosa ma questo è il genere l'ho presa azzurra l'ho presa gialla e l'ho presa rosa la rosa come potete vedere ha un bel difetto nel senso che è tutta storta naturalmente quando mi è arrivato il pacco l'ho fatto presente me la stanno mandando ex novo gratis perché gli ho mandato una foto e ho detto scusatemi non è un gran problema perché le ho pagate relativamente poco capisco cioè io sono molto comprensiva però mi avete mandato una cosa che è veramente inutilizzabile non ve la giro perché davanti c'è una cosa che non voglio farvi vedere non voglio svelare in questo momento comunque qui è tutta storta è tutta fuori vabbè comunque me la stanno rimandando questo è quello che mi è arrivato da aliexpress e da aliexpress non aspetto più nulla non vorrei dirvi una stupidaggine adesso guardo perché mi segno gli ordini e vediamo se ah no no praticamente ho ordinato ragazzi dei rivoli ancora verso la fine di ottobre arriveranno verso la fine di novembre giusto per natale e dei refill per l'agenda perché io se ho la filofax sapete che ho fatto un video se non l'avete visto e vi interessa andate a vederlo e poi basta non ho altri ordini in corso mi era venuta un'idea di fare un ordine di altre cose ma aspetto perché ho veramente troppa carne al fuoco non ci sto capendo più niente questo è quanto ragazze mi spiace se sono presente sia no a singhiozzo sia nei social che nel sito il sito lo veramente lo sto trascurando perché non sto passando un periodo meraviglioso anche anche specialmente lavorativamente parlando non ho niente da dire sul posto dove lavoro sulle persone con cui lavoro perché il mio titolare è un ragazzo simpaticissimo quindi veramente non ho niente da dire però sono molto insoddisfatta e sono abituata dovrei fare un video a parte per spiegarvi alcune cose perché voi capiate questa mia insoddisfazione è che a volte mi sento anche magari nel torto perché c'è gente che lavoro non ce l'ha io che ce l'ho piccolino nel senso che lavoro solo mezza giornata mi non mi dovrei lamentare però purtroppo ragazzi la cosa peggiore del mondo secondo me l'insoddisfazione se sei insoddisfatti di una parte della vostra vita purtroppo questa insoddisfazione va ad intaccare a mio parere anche gli altri aspetti e in questo momento sono veramente in confusione nonostante abbia ripreso in mano l'agenda e abbia messo giù una tabella di marcia fatico veramente a rispettarla stamattina non dovevo girare il video dovevo fare tutt'altra cosa ma vi mi andava di girare il video anche perché devo cominciare a lavorare volevo farvi vedere le cose che avevo acquistato quindi ragazze ringrazio sempre tutte le nuove iscritte se avete voglia di seguirmi sui social nell'info box vi metto tutti quanti i link al sito alla pagina facebook e a instagram su instagram ogni tanto vedete che posto delle foto anche della mia cagnolina o delle cose pazze che faccio e vi ringrazio tutte quante se il video vi è piaciuto pollice in su iscrivetevi al canale tornerò presto spero sia con i tutorial e specialmente con le ultime creazioni anche perché ragazze sto lavorando per natale a un'altra cosa che vi dirò probabilmente anche nel prossimo video credo che dal prossimo video creazioni comincerò nell'info box a mettere i prezzi delle cose perché qualcuna di voi mi scrive in privato domandandomi i prezzi e poi divento matta andare a cercare anche perché è difficile vedete nel video una cosa me la dovete spiegare io non la capisco e diventa un po un caos quindi penso comincerò a mettere i prezzi nell'info box magari tra parentesi così vi fate un'idea se per caso foste interessate a qualche cosa detto questo io vi saluto vi auguro un buon fine settimana visto che oggi venerdì cercherò di postare subito questo video in modo che abbiate qualcosa da guardare da spiocchiare anche perché non voglio essere troppo assente e vi mando un bacione ci vediamo al prossimo video ciao fanciule ciao 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 ciao